Ma che meraviglia! Buonasera Padova! Io sono molto felice di essere qui in questa città perché io l'amo moltissimo, veramente, veramente, veramente tanto. Beh, deve fare un certo effetto vedere Cristiano Malgioio, anzi sentire Cristiano Malgioio cantante, visto che io faccio ormai da molto tempo tal televisione, sono un altro personaggio, però la mia vita è quella di cantare, ho iniziato la mia carriera come cantante e poi come autore, ho lavorato con tutti i grandi, da Lavanoni, Milva, Patti Bravo, Mina, Celentano, insomma, penso che abbia lavorato un po' con tutti. Allora, cosa succede adesso? Io da settembre farò pochissima televisione perché voglio... Oddio, che succede? Ma mi volete veramente in televisione? C'è chi dice no? Beh, comunque la televisione è la mia vita, però anche la canzone è la mia vita. Io in questi giorni ho inciso un brano che è diventato un numero uno a Cuba, ascoltatissimo in Brasile, in tutta l'America Latina. Il buon direttore Roberto di Radio Birichina ha preso questo brano, l'ha stampato lui ed è un successo in quei paesi dove io trovo adesso a promuoverlo e adesso stasera lo promuovo qui e grazie a Radio Birichina che sta facendo anche un grande successo, il titolo Amica Mia stasera. A presto! 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 Me siento mal, me matarás Tengo carmino rollo, sangre en mi cara E' tus uñas tatuadas dentro de mi Tengo mi mar revuelto como tus mentiras Pienso encontrar si pienso que me deñarás Amiga mía, qué pena Si no me amas más Amiga mía, desespero Me comes todo, me siento mal, me matarás Amiga mía, qué pena Si no me amas más Amiga mía, desespero Me comes todo, me siento mal, me matarás Amiga mía, desespero Si no me amas más Amiga mía, desespero 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 Grazie a tutti.